Preghiera del mattino Signore Dio nostro che hai scelto San Luca per rivelare al mondo con la predicazione e con gli scritti il mistero della tua predilezione per i poveri, fa che i cristiani formino un cuor solo e un'anima sola e tutti i popoli vedano la tua salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.